Marcello Antonelli, chiedete al Comune di Pescara, alla Giunta Alessandrini, regole certe per quanto riguarda i bandi di gara, gli appalti e tutto quello che concerne l'attività in questo senso dell'amministrazione comunale. Perché? Perché riteniamo che i principi di equità, rotazione degli incarichi, imparzialità, trasparenza rispetto alle regole siano imprescindibili. Abbiamo ritenuto che in questi anni ci sono state più volte proroghe tecniche per contratti ampiamente scaduti che non erano proroghe tecniche in realtà ma soltanto il frutto delle latitanze e delle inerzie magari delle strutture dirigenziali interessate. E su questo l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, ha avuto molto a ridire. Così come abbiamo assistito per esempio al conferimento di incarichi sempre agli stessi soggetti, così come abbiamo potuto verificare che quasi sempre sono le stesse ditte a lavorare per le somme urgenze o per gli affidamenti diretti. Insomma, uno scenario assolutamente non piacevole, non positivo. Noi riteniamo che si debbano ridistribuire una serie di regole e di indirizzi per rendere più trasparenti le attività del Comune di Pescara per quanto riguarda il conferimento di incarichi professionali, per quanto riguarda l'affidamento di servizi, forniture e prestazioni in genere. Un lavoro molto articolato che sottoponiamo da oggi al Consiglio Comunale, credo già tra qualche settimana il Consiglio Comunale potrà esprimersi. Ci auguriamo che ci sia la maturità per comprendere che ormai su questi temi non si può scherzare. In un momento di grandi crisi economiche noi abbiamo l'obbligo di garantire imparzialità e trasparenza. Un'altra delle nostre proposte che abbiamo calato è quella di invitare solo le ditte che hanno la sede nella regione Abruzzo alle procedure negoziate. Dove sono le procedure aperte ovviamente possono partecipare tutti, ma per importi inferiori riteniamo che i soldi dei pescaresi, perché noi gestiamo i soldi delle tasse versate dei pescaresi, debbano ricadere in questo territorio. In questa maniera crediamo di fare un ottimo servizio a favore del sistema delle imprese e anche quindi della salvaguardia dei livelli occupazionali.